Il presepe l'ho desiderato fortemente per vari anni perché non c'era nella chiesa di San Ferdinando che è la chiesa degli artisti per cui quest'anno ho chiesto a questa associazione che si occupa di minori disagiati insegnando loro l'arte presipiale di realizzare questa opera ed è molto particolare perché il presepe è ambientato in piazza San Ferdinando proprio per ricordare che dobbiamo essere contemplativi in mezzo al mondo, che il Signore nasce in mezzo alle strade non nelle sacristie della chiesa e poi ho voluto dargli questa connotazione particolare di animare il presepe con tutti gli artisti che hanno fatto i funerali nella nostra chiesa che ripeto è la chiesa degli artisti per cui è un ricordo, anche un tributo che noi offriamo a queste persone che ci hanno aiutato ad amare la bellezza.